Sì, noi oggi presenteremo il treno, 11 vagoni per l'Ucraina, coordinato naturalmente dalla regione toscana in rapporto con la protezione civile a livello nazionale. Abbiamo 10 giorni per riempire di aiuti, aiuti umanitari, gli 11 vagoni, già i sindaci si stanno mobilitando, le organizzazioni di volontariato stanno facendo, partirà dall'interporto di Prato, sarà il treno Pegaso di aiuti per l'Ucraina. Tutta la regione già si sta muovendo per poterlo riempire di quello che è il gesto di solidarietà più autentico, ovvero quello di dare a quella povera popolazione martoriata dall'aggressione da criminale di guerra del dittatore russo Putin, e la risposta che c'è nel cuore per spendersi verso quei bambini, quelle donne che sono sotto le bombe e che vivono drammaticamente la loro vita.